Anziché magari leggere racconti di montagna o testi che hanno a che fare con la montagna perché magari se siete appassionati già siete dei lettori del genere, mi interessava capire quale affinità ci sono tra il raccontare una storia e il camminare in generale e il camminare in montagna in particolare. Il testo che vi propongo è in realtà una canzone provenzale, antica. Allora la canzone fa così. Grazie Grazie Grazie